Ciao, mi è tornata la voce e quindi è tutto pronto per il Michela Digital Show del 3 di dicembre. Di cosa ti parlerò in questa edizione? Allora, come affrontare documenti lunghi e mostruosi, per esempio la funzione libro, gli sommari, gli indici? Non sarai mica fra quelli che fanno l'indice a mano e il sommario a mano, vero? E poi è molto utile questa funzione per vedere un trucchetto che ti mostrerò proprio sabato. Vedremo anche le note a piedi pagina e le note di chiusura, perché non sono la stessa cosa e effettivamente possono essere utilizzate in modo molto utile. Poi vedremo tutto quello che riguarda le Adobe CC Libraries, perché è ora di utilizzarle per lavorare da soli o in team. Poi affronteremo gli argomenti di Illustrator. In questa edizione ho scelto di farti vedere tutte le funzioni del testo, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista tipografico, perché è vero che non si impagina con Illustrator un documento lungo, però può essere utile saper utilizzare le funzioni del testo in modo corretto. Ci saranno anche degli ospiti d'eccezione, Massimo Nava e Marco Lombardo, rispettivamente di Artlandis e di robadagrafici.net. Parleremo con loro di intelligenza artificiale e tutte le novità che sono arrivate recentemente. Sì, perché l'intelligenza artificiale ci aiuta a fare un sacco di cose, ma bisogna saperla utilizzare con criterio. Poi faremo il gioco, chi vuole essere in designario? Come sempre ci divertiremo un mondo imparando cose nascoste di InDesign e ci sarà l'opportunità di partecipare facendo il sondaggio, cioè anche chi viene all'evento può rispondere alle domande in modo che si possa divertire imparando. Insomma, il 3 di dicembre, che è un sabato, dalle 10 alle 14 e 30 trova il tempo per organizzarti e parcheggia moglie, marito, figli, cani, gatti e dedica qualche ora alla tua formazione e aggiornamento. Non te ne pentirai, altrimenti come succede sempre, ah non sapevo che fosse così interessante, ah me lo sono perso. E se hai l'abbonamento a Creative Master, due Michela Digital Show sono inclusi nell'abbonamento, quindi pensaci, ovviamente durante l'evento farò anche un codice sconto da regalare a chi viene, per potersi permettere la Creative Master che contiene ormai centinaia di ore di formazione, sia della sottoscritta che di tantissimi altri ospiti. Insomma, zio cantante, vieni al Michela Digital Show, cosa ti devo dire? Ti aspetto, ciao!